Dopo aver finito il frottino, potremmo troviamo che il frottino non è bello come lo aspettiamo. Questo potrebbe dipendere da alcune questioni diversi. Una cosa importante è la temperatura del frottino. Bisogna usare il frottino, 41-45 F. Il secondo dipende dalla quantità del frottino che abbiamo usato. Non usiamo più di 100 ml. Il terzo è il corretto del frottino. Se usiamo 100 ml ma il frottino è troppo grande, quando inseriamo il frottino non arriva per toccare il frottino. Quindi non abbiamo nessun effetto del frottino nel frottino. La terza ragione è che apriamo il frottino prima che la luce verde sia pronta. Quindi la macchina non ha la temperatura corretta per la frottino. La ultima possibilità è che non apriamo completamente il frottino. Se apriamo solo un pochino, la quantità del frottino non è sufficiente. Dobbiamo aprire la posizione del frottino. Se il frottino è già aperto, ma troviamo che la quantità del frottino è molto lunga o non frottino, bisogna procedere con un'altra operazione. Aggiungere il frottino. Aggiungere il frottino. Poi mettere una coppia sotto la macchina. E brevi qualche acqua. Per assicurare che il frottino è pieno di acqua. Quindi, apriamo. Lasciate la ponte e raffilliamo il frottino. Quando abbiamo visto che il frottino è venuto subito, stop. E poi cominciamo, dal primo, il ciclo di acqua. Aggiungere il frottino.